Facendo l'iscrizione alla nostra newsletter riceverai un codice sconto del 5% sul primo ordine, è un codice alfanumerico, un fatto l'iscrizione riceverai una prima email dove dovrai confermare l'iscrizione, dovrai confermare di essere veramente stato tu a fare l'iscrizione e non qualcuno che ha usato il tuo indirizzo email, dopodiché riceverai una email con il codice, il codice promozionale si va nella pagina del carrello dopo che hai inserito i prodotti che vuoi acquistare nel carrello, inserisci qui il codice promozionale che ti arriva, codice alfanumerico senza le virgolette, eventualmente ci fossero le virgolette, senza le virgolette ai lati e clicchi su applica codice promozionale e vedrai che qui nel totale apparirà uno sconto codice promozionale oppure sconto in base del 5% su tutto l'ordine, sul totale dell'ordine e poi fai procedi con l'ordine e qui vedrai nel totale di nuovo vedrai lo sconto applicato e puoi procedere poi con il pagamento.